Oggi il problema è di autostrade S.p.A., una milionaria concessione nazionale, quindi il problema deve essere gestito e affrontato da autostrade, che non può avvalersi di silvi per risolvere un suo problema giudiziario, un suo problema amministrativo, un suo problema manutentivo. Continua l'odissia sulla statale adriatica a causa del sequestro del viadotto Cerrano e delle limitazioni al traffico sui viadotti abruzzesi e marchigiani dell'A14. Terminate le festività, con la riapertura delle scuole e rientri al lavoro, la situazione è ulteriormente peggiorata. Le opposizioni di centrosinistra di Silvi, uno dei comuni maggiormente colpiti dal caos creato dai mezzi pesanti, rilanciano l'allarme sulla salute pubblica e puntano il dito contro l'attendismo del primo cittadino. La legge impone al sindaco di tutelare i cittadini e la salute dei cittadini. Per farlo ha bisogno degli strumenti necessari previsti dalla normativa di legge. Deve far installare immediatamente delle centraline che rilevano l'inquinamento atmosferico. Nel momento in cui ci sono le centraline, io sono sicuro che i parametri sono oltre quelli previsti dalla legge. E al sindaco è obbligato per legge, altrimenti commette dei reati come omissioni, fare l'ordinanza e bloccare il traffico. Il problema a quel punto lo spostiamo sulle autostrade, che possono trovare soluzioni alternative che non certo riguardano il comune di Silvi, che subisce passivamente il passaggio di 3, 4, 5 mila tir al giorno. Le centraline però, che dimostrerebbero l'incidenza dei tir sulla qualità dell'aria, non possono essere poste autonomamente dal comune, ma devono essere omologate dall'ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. La soluzione, secondo i consiglieri d'opposizione di Silvi, sarebbe quella di interdire il transito sulla statale 16 ai mezzi pesanti. La nostra proposta di bypass, passando per la 24-25, con l'uscita da Mociano, quindi con sicuramente un aggravio di chilometri, che a quel punto la società autostrade, con il Ministero, con chi di competenza, dovrà in qualche modo ammortizzare con le compagnie di autotrasportatori. Nel frattempo Autostrade per l'Italia dovrà effettuare i primi rimborsi per i disagi del Ponte dell'Epifania, che però non supereranno i 12,80 euro. Inoltre è attesa per domani, a quasi un mese dal sequestro del viadotto, la verifica delle condizioni del tratto autostradale in questione, da parte dei tecnici della Procura. Domani, insomma, il viadotto potrebbe essere dissequestrato, altrimenti si dovranno attendere lavori di manutenzione messa in sicurezza.